Per ricordarvi perché avete aderito al progetto. Ogni blocco di pietra ha una statua dentro di sé ed è compito dello scultore scoprirla l'uomo dipinge con la mente e non con le mani. Michelangelo. È attraverso l'esercizio cosciente dell'osservazione e della riflessione che si trova la propria via. È per questo che dobbiamo scavare e cercare incessantemente. Claude Monet. Ci sono fiori ovunque per chi ha occhi per vederli. Henry Matisse. Aspetta fino a domani prima di abbandonare completamente ciò che hai lasciato incompiuto. Pablo Picasso. Lo scopo dell'arte non è di rappresentare l'apparenza esteriore delle cose bensì il loro significato profondo. Aristotele. Lo scopo primario del linguaggio è la comunicazione. La grammatica è importante ma è solo parte di un ordito più ampio. La lingua, come ben noto, non si apprende con esercizi meccanici, bensì attraverso l'interazione e il coinvolgimento attivo degli alunni. Che senso a leggere e scrivere qualcosa se non si sa che perché lo si sta facendo e se non si è in grado di usarlo? Lo scopo di questo progetto è Incoraggiare l'autoapprendimento e l'educazione permanente. Presentare nuove metodologie di insegnamento e di apprendimento. Promuovere l'espressione creativa degli studenti. Portare l'insegnamento nella vita e vita nell'insegnamento. Apprendere cose nuove sulle altre culture, condividendo il proprio sapere sulla cultura del proprio paese in modo che la condivisione sia strumento di trasmissione, ma anche di salvaguardia della propria cultura. Ogni lavoro potrebbe essere corredato di una breve descrizione del prodotto realizzato o una poesia rappresentativa del proprio paese tradotta in inglese. È nell'unione e nella condivisione che la nostra eredità culturale diventa espressione della nostra identità in quanto popolo. È importante proteggere la nostra cultura perché essa è una delle manifestazioni della libertà di pensiero e di espressione. I nostri alunni sono l'espressione dei valori delle famiglie e del nostro paese e sono loro che dovranno trasmettere questa ricca cultura alle generazioni a venire. La cultura, la nostra ricca cultura, è la spina dorsale della nostra società, non dobbiamo mai lasciare che si disperda. Per questo è essenziale che insegniamo ai nostri ragazzi l'importanza della nostra cultura. Conoscendo le altre culture, conosciamo meglio noi steassi. Nella misura in cui il mondo diventa sempre di più globale, e viviamo in una dimensione localizzata, non possiamo più vivere nell'idea che esista un solo modo giusto di vivere. Dover vivere a contatto con l'altro implica l'accettazione reciproca della cultura di provenienza. Per evitare errori di valutazione e incoraggiare una coesistenza pacifica, il meglio che possiamo fare è conoscere le altre culture e al contempo prendere consapevolezza della nostra stessa cultura. D'altra parte come potremmo dialogare in modo efficace con persone di altre culture se non conosciamo bene la nostra stessa cultura? Come voi ben sapete l'Italia è un esempio unico in fatto di cultura e di tradizioni, per questo vi chiediamo di aiutarci a far sì che gli studenti delle altre scuole europee, i loro insegnanti e le loro famiglie, abbiano l'opportunità di conoscervi meglio e apprezzarvi per quello che siete rappresentate nel panorama storico-culturale europeo. Questo progetto si propone di offrire una esperienza ricca e varia attraverso gli strumenti dell'analisi, dell'esplorazione, della riflessione, dell'osservazione, della sperimentazione e della comunicazione. L'opportunità di realizzare dei lavori usando varie tecniche artistiche avrà un effetto positivo sul processo di apprendimento, di alfabetizzazione e di sviluppo delle abilità linguistiche. Il linguaggio universale dell'arte, che passa attraverso simboli e immagini, attiva le cosiddette intelligenze multiple, sviluppa lo spirito critico e il pensiero concettuale nonché la capacità di trovare soluzioni per risolvere problemi di carattere tecnico facendo appello alla creatività. Gli studenti coinvolti in progetti curriculari ad alta valenza artistica sviluppano un maggior livello di autostima, il senso dell'individualità e dell'autoanalisi. L'utilizzo di diversi modelli di apprendimento, stimola la loro immaginazione e la loro capacità di osservazione sviluppando così la capacità di interpretare ed apprezzare il lavoro degli altri e di esprimere il proprio punto di vista. Attraverso l'arte i giovani avranno l'opportunità di sviluppare la loro capacità di espressione, ampliare la propria consapevolezza in materia di multiculturalità, diventare orgogliosi delle proprie radici culturali e riconoscere il loro ruolo nel mondo in termini di interazione e partecipazione. L'introduzione dell'arte nel contesto dell'apprendimento delle lingue straniere è un modo creativo di insegnare che consente agli alunni di esprimere il proprio pensiero in maniera pratica, scritta e orale, e agli insegnanti di lavorare in modo da, costruire sulla base delle conoscenze pregresse. Creare un ponte fra lingua scritta e orale. Fare dell'apprendimento un momento rilevante e significativo. Aiutare gli alunni a sviluppare la propria autostima. Incoraggiare la creatività. Sviluppare la capacità di apprezzare il passato. Mettere in evidenza similitudini e differenze. Incrementare la capacità di analisi, di ragionamento e di discussione. Incoraggiare il pensiero creativo. Sviluppare la capacità di adattamento, risolvere problemi. Porre l'accento sull'importanza dell'interpretazione e alla comunicazione delle idee. Incrementare la capacità degli alunni di osservare e di interagire con il mondo, nonché di rappresentarlo. Buon Natale e felice anno nuovo! Buon Natale e felice!